Chiedo a tutti i cittadini un po' di pazienza perché purtroppo abbiamo avuto una rottura ieri a Santa Veneranda, siamo riusciti a ripararla in tempo debito, in tempo utile per non creare nessun tipo di disagio né di servizio, tant'è che non abbiamo comunicato niente perché nessuno se ne è accorto, però quando c'è una rottura cosa succede? Succede che siccome questo è il prodotto principale che rifornisce l'acquedotto di Pesaro e non solo e quindi il serbatoio di San Gaetano, ovviamente quando c'è una rottura c'è il consumo e c'è meno flusso e quindi è chiaro che siamo trovati oggi con il serbatoio a un livello più basso e purtroppo questa rottura consecutiva da un giorno all'altro ha creato il disagio che ovviamente capisco e per quanto utile posso chiedere scusa ma non è certamente colpa di nessuno, purtroppo gli acquedotti si rompono, è un acquedotto che ha la sua vetustà e chiaramente nel tempo bisogna programmare anche il suo rifacimento e quindi oggi stiamo comunque lavorando e credo che nel giro di qualche ora verso le 8 e mezza l'intervento di riparazione sarà completato e poi serviranno 2-3 ore per il riempimento della condotta che comunque è una condotta importante di un 700 di diametro e quindi lunga 27 chilometri, quindi un po' di tempo ci vuole perché non si può riempire troppo in fretta persino a parte il colpo d'ariete e quindi si torna anche a rompere e quindi contiamo verso la tarda notte, verso le 23-24 io spero che contiamo di cominciare a far defluire l'acqua nella rete distributiva di Pesaro insomma ecco, in alcune piccole zone qualcosa c'è perché comunque inseriamo l'acqua del posto di Borgeria che comunque sono pochi e hanno una portata limitata e quindi però stiamo mettendo in rete qui nelle zone un po' più basse qualche quantità di acqua sta arrivando insomma, quindi ci stiamo adoprando con autobotti anche con la distribuzione e anche con l'ausilio e il rapporto col comune, la protezione civile, la distribuzione di bottiglie, abbiamo 3 autocisterne che hanno i beccucci adeguati e quindi stiamo facendo distribuzione, cerchiamo di fare il possibile però è ovvio che il disagio c'è e come dicevo chiedo per quanto possibile un po' di pazienza e di tolleranza ai cittadini perché chiaramente ci rendiamo conto del disagio che c'è però purtroppo c'è più di quello che stiamo facendo e non riusciamo a fare ecco.